Andrea, dall'argento europeo a qui le soddisfazioni continuano? Ci sono due cose diverse, qui siamo all'inizio proprio di una stagione per cui le squadre, sia noi ma la stessa Perugia, devono lavorare tanto perché soprattutto i sistemi di gioco vanno collaudati, bisogna lavorare su quello. Noi siamo stati bravi nello sfruttare secondo me i nostri punti forti, quello che poi ho chiesto ai ragazzi è stato trovare ritmo sul cambio palla, lavorare bene quelle seconde e terze rigiocate dove noi abbiamo dei bei attaccanti per cui anche Michele aveva la possibilità di andare a sfruttare questi giocatori. Abbiamo preso sempre quei margini che ci hanno permesso di avere un cambio palla più tranquillo e poi abbiamo messo pressione con la battuta, tanto a un certo punto con la difesa abbiamo iniziato a raccogliere di più. Chiaro che è un bel risultato perché vincere qua non è facile, però è stata molto lunga. È sembrata comunque una squadra già abbastanza solida? Noi abbiamo secondo me alcuni, partendo proprio da Michele, abbiamo un palleggiatore che fa preciso, fa valleggiare la palla, ci sono tante cose che però si devono sistemare. Oggi è un primo passo, ma è importante aver vinto e aver giocato non facendo troppi errori. Però questo è il primo passaggio, da qui la strada è lunga, ci abbiamo tanto da lavorare. Le prospettive di Verona in questo campionato? Ma l'ho detto all'inizio della stagione, noi non dobbiamo avere limiti. Siamo una squadra con grande potenziale, sappiamo che ci sono tante squadre forti sulla carta, però noi dobbiamo affrontare le partite come se fossero finali e poi senza porra di nessuno. Perché, ripeto, credere molto in se stessi, credere nella squadra è la cosa più importante.